Bentornati a Outtopic, la rubrica di EveryEye che ogni giorno vi tiene informati sulle novità più calde del mondo videoludico. Parliamo in questa occasione di Microsoft e Xbox Scorpio. Phil Spencer durante una recente intervista ha rilasciato alcune dichiarazioni molto importanti circa la nuova console di casa Microsoft. Pare infatti che Scorpio verrà venduto a un prezzo tra le 450 e le 500 euro. Phil Spencer ha detto che non sarà un prezzo basso, anzi ride quando gli dicono che probabilmente sarà un prezzo proibitivo, noi pensiamo che sarà allineato più o meno con quello delle attuali console, probabilmente qualcosina in più, ma ci sono anche buone novità nel senso che Scorpio molto probabilmente monterà diversi tipi di lettore Blu-ray. Potrebbe essere infatti il caso di una doppia console, una con il lettore Blu-ray in 4K e una invece con il lettore Blu-ray normale a seconda delle tasche e delle esigenze dei consumatori. Altra notizia importante è la differenza di taglio di terabyte che potrebbero avere gli harddischi interni di Scorpio, quindi ancora una volta potremmo trovarci davanti a una console con diversi formati per tutte le esigenze. Per oggi con Otopic è tutto, ci vediamo con questa rubrica importantissima nella giornata di domani. Ricordatevi di iscrivervi al canale, alla prossima!